si si comincia il pacco pienico perchè guarda ci vuole tre comunque andiamo a aprire primo si trova vabbè ora c'è roba semplice sgher e bombarolo speriamo di trovare una cosa buona nel baule gigante questo è 41 non si vede per bene perchè è super illuminato e l'orda che non male fa non fa tanto male baule omaggio montè 49 di oro e qualche sgherro ancora 49 e gli sgherri possiamo fare l'upgrade l'orda di sgherri al 6 bene apriamo quello della corona 366 4 o cart no è arrivato l'ora di sbloccare il nostro baulozzolo fornace 2 si 17 tantissima roba e 165 scariche che è una roba devastante praticamente tantissimo c'è scarico tantissimo mamma mia scarica veramente tanto sta migliorando a livello un po di massato a livello 5 ora livello 6 mi sa che è l'ultimo 6 livello no potrei farla il 7 però solamente che mi mancano 500 si è andato bene diciamo sì abbiamo trovato belle cose fondamentali mi sa che ci andranno altro gemme perchè le devo fare assolutamente il 6 e facciamo anche gli sgherri vabbè spero che il video vi sia piaciuto se volete prossimo video mettete 5 mi piace e arriverà un altro appuntamento qua su cristiano ciao 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 ciao